bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità ma che novità per quanto riguarda il futuro di fortnite parleremo della storyline si sta capendo qualche cosa e ce lo dicono proprio le schermate di caricamento ma vedremo anche l'arrivo di una nuova arma e tanto tanto altro volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 ma andiamo avanti e vediamo subito anche altri argomenti trattati nel video di oggi vedremo le sfide che arriveranno tra poche ore e vedremo anche l'anti elicotteri ne parleremo ne parleremo ma prima la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere le vostre domande anzi le vostre risposte alla mia domanda qua sotto domanda di oggi molto molto interessante ma qual è il tuo agente preferito dai oramai li conosciamo tutti a memoria li stiamo piano piano vedendo alcuni diventano d'oro poi dalla parte delle ombre dalla parte degli spettri il mio ragazzi è mida bello bello anche la banana la bananagente molto ignorante però midas è veramente tanta tanta roba dimmi qual è il tuo preferito qua sotto nei commenti ma quindi ciao ciao le bande e vado alle ciance andiamo subito ragazzi a vedere un attimo questa immagine interessantissima c'è da parlare di un po di cose allora queste sono le schermate di caricamento che però se controlliamo potrebbero in realtà nascondere una storia una storyline molto più interessante mi viene in mente ad esempio se guardate in alto a destra la schermata che va a riprendere foschi fumaioli dove stanno droppando delle persone probabilmente che se ne vanno dallo yacht sotto c'è come vedete il pozzo che è stato distrutto ma anche sotto di più c'è tnt tina che sta facendo esplodere qualcosa che sembrerebbe essere lo yacht se guardate bene nell'ultima immagine nella destra ci sono proprio le due ciminiere di foschi fumaioli e quella che vedete proprio qua sopra invece è una teoria veramente molto interessante cerco di tradurvela direttamente dall'inglese all'italiano quindi partendo dalla grotta abbiamo ottenuto degli agenti speciali in più che sarebbero i giocatori che hanno scelto brutus nella versione delle ombre quindi tutti tutte le ombre sotto brutus sono andate allo yacht hanno rubato i file segreti che erano presenti allo yacht e nei file c'erano dei piani per distruggere il pozzo loro lo chiamano oil ring noi lo chiamiamo il pozzo la piattaforma petrolifera solo che tnt tina li ha trovati e quindi distruggerà a sua volta lo yacht e probabilmente potrebbe fare la stessa fine anche la grotta e poi sotto c'è una piccola è un piccolo edit che dice probabilmente questa inizierà una catena questi fatti inizieranno una catena di distruzione l'agente miascolo penserà che sky in realtà ha fatto ciò che ha fatto tina e quindi andrà a distruggere lo squalo ma nello stesso tempo sky penserà che a distruggere lo squalo è stato midas tentando quindi di distruggere l'agenzia è una figata e direi che fila in realtà tutto liscio perché potrebbero generarsi appunto delle cose che in game modificheranno morfologicamente tutte le varie location speciali le chiamo io dove ci sono gli agenti non perdete gli aggiornamenti perché secondo me qualcosa di interessante verrà fuori e andiamo avanti ragazzi perché midas in realtà non l'ho menzionato a caso ma abbiamo dalla patch 12.20 una nuova variante di oro chi è oro per chi non se lo ricordasse oro ragazzi è una skin inserita addirittura nella precedente season che è stata anche ripresa durante il trailer degli elicotteri e nella variante che abbiamo visto prima non è di color oro come in realtà il nome ci sono state però delle altre modifiche anche perché questa skin non è mai uscita ma ci sono tantissimi elementi che lo vanno a richiamare vanno a richiamare il simbolo che ha lui sul petto qualcuno dice ed è secondo me molto interessante io penso che midas ha rubato la potenza di oro lasciandolo tipo una mummia in uno stato di revenge di maledizione quindi in uno stato di maledizione come una mummia e in realtà se andiamo a vedere invece nei file di gioco è successa una cosa molto interessante nella patch 12.20 il set di oro che si chiamava che la skin oro che faceva parte del set la maledizione della cripta in realtà è stata rinominata tutto il set è stato rinominato midas revenge quindi revenge dovrebbe essere non è la maledizione cursa e maledizione la rivolta di midas la non mi viene il termine comunque la cosa ci fa capire che in realtà potrebbe essere mida stesso oro e quindi potrebbe modificarsi magari nel termine di questa season potrebbe accadere qualche cosa che lo modificherà anche qui staremo a vedere queste sono le prime informazioni non dimenticatevi che appena so qualcosa lo saprete anche voi e andiamo avanti perché quella miseria questa faccia bella felice che sembra un pastrocchione in realtà è l'aclan chi è l'aclan è uno youtuber famosissimo milioni di iscritti super super figo perché te lo faccio vedere perché arriverà prestissimo un evento dedicato a lui abbiamo trovato delle nuove stringhe nei file di gioco che ci fanno capire che ci sarà l'evento la clan fashion show le stringhe di codice dicono congratulations e sotto grazie per aver partecipato all'aclan fashion show ok ci parteciperemo vedremo se ci danno qualcosa che cavolo me ne frega me tra l'altro in realtà succederà oggi forse sarà già successo perché questo video va solo le 13 e 30 dovrebbe succedere dovrebbe essere successo questa mattina troverete qualcosa sulla mia pagina instagram troverete in game sicuramente le cose ma andiamo avanti perché invece parliamo ancora un attimo degli elicotteri elicotteri che hanno un attimino modificato e notevolmente il gameplay di questo di questo nostro fortnite a parer mio lo hanno migliorato non sono invadenti non sono difficili da pilotare non sono difficili da buttare giù mi piacciono tantissimo la cosa in realtà che un pochettino sulla sui forum si legge è in realtà la difficoltà soprattutto in singolo di buttare giù un elicottero il che si è tradotto un pochettino in giocate abbastanza ambigue da parte dei player che hanno iniziato a padroneggiarlo correttamente ma in realtà ip games aveva già pensato a questa cosa e se torniamo sempre nei nostri file di gioco leggiamo là in alto una cosa interessante la prima è misty bop missile battery misty bop è un'arma che dovrebbe in realtà essere associata a deadpool perché ve lo dico perché avevo già fatto un video dove nelle doppie pistole di deadpool che stanno per arrivare una seconda arma dedicata a lui era proprio il misty bop ma la cosa che ci interessa in realtà è la seconda riga come vedete c'è scritto misty bop lock on copter lock on copter vorrebbe dire agganciato all'elicottero potrebbe essere per caso un missile teleguidato potrebbe essere una rivisitazione del missile teleguidato che all'inizio di questa season era stato presentato nella lobby dove ci sono le sfide giornaliere ma adesso è stato tolto non ne ho assolutamente idea però qualcosa sta per arrivare insomma ragazzi le notizie ci sono tante cose stanno per accadere questa season io la reputo veramente ok mi piace un sacco vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao